Serata speciale, serata indimenticabile questa sera in compagnia del maestro Fulvio Cres che ha diretto magistralmente, io posso dire l'ineguagliabile maestro Fulvio Cres perché l'ho conosciuto, lo conosco, ho imparato a conoscere il suo modo di dirigere ed è unico, quindi se la chiamano sua bandità ci sarà un motivo, come sua maestà è normale perché è unico in tutta Italia, grazie a Dio che c'è lei. Questa sera, come dicevo, ha diretto gli armoniosi musici eseguendo delle esecuzioni un po' particolari, diverse anche dalle solite. Che cosa ci ha fatto ascoltare questa sera? Questa sera abbiamo fatto un programma essenzialmente basato sulla musica operistica o dal carattere operistico e abbiamo messo ovviamente tanta musica conosciuta sempre appartenente a questo genere, cercando di variare un poco anche il timbro in quanto essendo una formazione di soli dieci strumenti ovviamente è timbricamente meno ricca di un complesso più grosso. Allora uno dei sistemi è quello di cambiare stile, magari suonare un pezzo allegro, un pezzo adagio, un pezzo in cui è protagonista lo strumento, l'intervento della voce che è sempre apprezzato e quindi questa è la prima cosa, quella di aver fatto musica di estrazione lirica, musica famosa e anche perché con un gruppo così piccolo suonare all'aperto era la cosa, penso, la scelta più opportuna. e diciamo che la cosa di per sé stessa contraddice un po' con le mie consuetudini perché? Perché per questo tipo di formazione in effetti è stata scritta sì dall'epoca di Beethoven, di Mozart tantissima musica originale, cioè che è stata scritta proprio per questo gruppo e solitamente gruppi di questo tipo suonano la musica scritta da Beethoven, scritta nella versione originale cioè in queste composizioni e potrebbe sembrare un po' contraddittore, voi sapete che io sono anche direttore di banda e sovente con le bande invece suono proprio la musica originale per banda, cioè quella scritta proprio per banda e suono meno per esempio la musica operistica, anche se la suoniamo però la suono meno allora uno potrebbe dire ma perché così suona la musica per banda e suona meno musica operistica e qui così magari nel caso di questa sera fa tutta questa musica operistica un motivo c'è che non è una contrapposizione, è dato dal fatto che serve a ricordare come anche questi gruppi che storicamente per uno che fa il professore all'università tutto tirato di storia della musica così eccetera eccetera, questi gruppi sono una cosa seria mentre una banda non è una cosa seria la questione non è così, sia questi gruppi sia la banda a seconda di cosa fanno possono essere delle cose serie però anche questi gruppi che storicamente sono appunto più collegati con la musica d'autore all'epoca suonavano in piccolo perché suonavano al chiuso le opere esattamente come facciamo noi se usciva un'opera di Mozart subito usciva la trascrizione anche per decimino quindi diciamo un discorso al contrario ma univoco allo stesso tempo Lei questa sera ha deciso di farci ascoltare tutti i compositori italiani Sì, allora in generale nei programmi scelgo sempre di fare un percorso e in linea generale è un percorso che è fatto un po' a specchio cioè si parte con una cosa, si arriva a un centro che un po' dovrebbe essere il centro di attenzione poi si inizia il percorso contrario in effetti sono tutti italiani perché questa è stata la scelta perché essendo legati all'opera era la cosa più bella però come ho avuto occasione di dire durante la composizione c'è stato anche questo brano di Gluck che pur essendo tedesco appunto è stato messo apposta non perché non conosca la storia o la geografia ma per testimoniare come fino a una certa epoca l'opera, quindi la cultura musicale, la cultura teatrale erano essenzialmente legati al nostro paese e sempre ripetendomi non è colpa mia se l'argomento è quello ancora oggi se in Giappone, in Corea, in non so in quale altra nazione studiano la lingua italiana si deve soprattutto non a motivi commerciali perché serve per motivi economici ma si serve soprattutto per imparare la musica, il canto e non dimentichiamoci che in tutto il mondo ancora le indicazioni musicali se uno va in America c'è scritto Allegro, c'è scritto Rallentante anche le indicazioni musicali sono tutte in italiano e quindi l'ho messo così sia perché era un bel brano sia per ricordare queste cose che ho detto e poi io adesso non so se la telecamera sicuramente avrà avuto modo di far vedere questa cosa anche perché questo non so come si potrebbe chiamare sembra quasi un ninfeo, sicuramente non lo era in origine ci ricollega anche con una certa ritualità della musica per strumenti a fiati quindi Gru, Corfeo ed Euridice, la Danza degli Spiriti Beati c'entrava molto anche con quest'ambiente Lei questa sera ha diretto come abbiamo detto prima un ensemble di fiati gli armoniosi musici, perché questo nome armoniosi musici? Se noi andiamo in Francia troviamo che le bande musicali si chiamano music d'armonia chiedo scusa un po' la bocca secca music d'armonia cioè la traduzione sarebbe musiche d'armonia che è sbagliato perché vorrebbe dire musiche cioè orchestre di fiati perché il termine armonie vuol dire non solo armonie ma vuol dire anche fiati proprio per il fatto che quando è nata l'orchestra i violini suonavano le melodie e i fiati che all'epoca non avevano tutte le chiavi e le possibilità che hanno oggi facevano le note lunghe che sono appunto le note d'armonia e quindi si è creata questa analogia di chiamare armonia e gli strumenti è fatto quindi quando si è trattato di scegliere un nome di questo gruppo che fosse potenzialmente collegabile con la storia con l'italianità con la curiosità infatti lei mi sta ponendo questa domanda e anche con il repertorio che facciamo mi è sembrato questa sorta di deviazione anziché musica d'armonia armoniosi musici una inversione e tra l'altro musici è un nome i musicisti a volte sono chiamati orchestrali sono chiamati musici sono chiamati musicanti il termine musici direi che è quello che più di tutti raggruppa le diverse possibilità di espressione perché al termine musicante noi siamo soliti dare un significato negativo però è altrettanto vero che nelle pitture di Tintoretto degli attori nascimentali sovente ci sono gli angeli musicanti e quindi noi non possiamo pensare che quelli suonassero male se erano degli angeli quindi il termine musicante vuol dire semplicemente che fa musica musici vuol dire che fanno musica alla stessa maniera quindi armoniosi musici per questo motivo se non sono stato troppo lungo aggiungo una cosa che l'ho proprio passata per ultima e ho evitato di dirla perché tutti questi membri del gruppo sono tutti per così dire professionisti ma non professionisti che svolgono la professione di musicista c'è chi fa l'insegnante, chi lavora in fabbrica uno penso sia addirittura della polizia stradale infatti quando vado nelle Marche filo perché c'ho la raccomandazione e quindi si ritornano proprio per il piacere di suonare insieme e anche perché così hanno occasione di non lasciare perdere i lunghi anni di studio che servono per raggiungere un certo traguardo a livello musicale a me piace molto dirigere questo tipo di gruppi così come anche se diciamo questi sono semi professionali o amatoriali proprio perché come dice la parola nascono dal cuore, dalla passione, dalla voglia di fare mentre a volte nel professionale anche io facessi la professione cioè se fosse a partenza non è che io sarei diverso succede che subentra la routine il fare tutti i giorni le stesse cose e quindi ci si siede un poco qui invece a volte si trova un altro entusiasmo Maestro la sua vita è stata dedicata ed è ancora dedicata alla musica ma se non fosse stato così che cosa avrebbe fatto? Guardi, è la prima domanda a cui non so rispondere a volte mi dà l'impressione che avrei potuto fare il presentatore ecco diciamo la prima risposta immediata che mi viene beh, poi la musica si può fare sia dirigendo sia insegnando, ecco in tante maniere sia facendo un musicologo, studiando altre cose che mi piacciono ovviamente c'è la letteratura tutte le scienze mi piacciono anche se devo dire mi piace la materia di per se stessa però a studiarla non ci capisco niente per esempio io, lo confesso, ho fatto la quinta al liceo quindi ho fatto il liceo scientifico è stato un mistero come sono riuscito a fare poi l'esame di matematica che l'ho capito ancora adesso perché mi ricordo adesso non è tutto dimenticato ma mi sembra che già allora quando si parlava di seno di coseno non ci capivo più niente quindi non so poi come ho fatto ad andare avanti però ecco da vita, da mille occasioni di fare cose belle anche il giornalista così ecco il compositore che ancora non ha diretto che le piacerebbe dirigere o la composizione che ancora magari non ha diretto ma che le piacerebbe dirigere? per quanto riguarda il mio principale campo d'attività direttore di banda il prossimo brano che vorrei fare sono le Dionisiac di Florent Smith che è un autore francese che è vissuto nei primi del novecento questo brano è stato scritto nel 1921 certo non è un brano di facile ascolto però dovessi dire cosa vuoi fare ancora nella tua carriera musicale direi quello cosa mi piace di più fra tutti i brani che ho eseguito fino adesso oserei dire la grande sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlio che è veramente quel simbolo di come la musica anche se classica, anche se colta quando è scritta in una certa maniera sappia cogliere l'attenzione delle masse perché è una sinfonia che inizia addirittura con una marcia funebre poi c'è una sorta di adagio contro buone solista e poi finisce con una sorta di crescendo verso l'apoteosi e anche se mi è capitato di suonarla in passato addirittura in luoghi all'aperto in Puglia con persone che magari stavano sedute al bar una volta nelle piazze del sud Italia e smetterono di stare al bar venivano ad ascoltare perché una cosa io vorrei ribadire scusate se approfitto della televisione che non è assolutamente vero come pensano molti che la gente è ignorante la gente anche in musica e nell'arte sovente vuol essere tenuta ignorante e soprattutto a volerla tenere in questa situazione sono coloro che unendo alla loro quella parola là che attribuiscono agli altri magari una posizione di potere unendo queste due cose obbligano a volte i musicisti a fare delle scelte per cui è come se se uno che gioca a hockey improvvisamente come stavo dicendo primamente per la prima parte per diventare più bravo non dovrebbe più giocare a hockey dovrebbe mettersi a giocare a pallone ma se uno è giocatore di hockey quello deve restare e lo stesso deve restare il campo di espressione musicale per quanto riguarda quindi ho detto per quanto riguarda in assoluto una cosa che mi piacerebbe fare che non l'ho mai fatto ma neanche mi sforzo per farla perché sono già contento così sarebbe quello di dirigere un'opera lirica diciamo un'idea mi dice tu fra tre settimane devi morire allora lasciami almeno sei mesi che mi studio l'otello poi dirigo l'otello magari sperando che venga anche bene e poi me ne vado ecco sì ecco anche adesso mi andrei felice stesso speriamo che questo accada il più tardi possibile perché noi la vogliamo rincontrare ancora tante volte vogliamo ancora ascoltarla perché è davvero un piacere ascoltarla ascoltarla quando presenta i brani e vederla durante l'esecuzione dei brani dirigerla ripeto è ineguagliabile quindi spero di rivederla molto presto e questo è l'augurio che sono sicura che si fanno anche i nostri amici grazie grazie a lei grazie a tutti gli ascoltatori grazie a voi che venite a seguire queste manifestazioni perché le televisioni sono sempre più rare e presenti a riprendere queste cose quindi grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti